Oltre a lavorare con grandi aziende e con grandi artigiani, noi siamo anche i disegnatori di occhiali. Questa è una cosa che chiamiamo fare perché diamo vita al nostro pensiero e gli occhiali che produciamo noi possiamo farli con le lastre dei colori che vogliamo noi. E sono queste qui. Scegliere un occhiale non è per niente facile. Per la scelta degli occhiali io e mia moglie spesso litighiamo perché io penso che possa andare una cosa, lei pensa che la tendenza sia un'altra, oppure quel materiale non ci piace. Quindi per noi fare un campionario, e andiamo solo in fiera a fare campionari, diventa quasi un lavoraccio. Però è la cosa che più amiamo e lo facciamo con una passione infinita. L'occhiale non passerà mai di moda perché l'occhiale è un pezzo di storia. Dietro un occhiale c'è una storia. E quello che piace fare a me è proprio questo, è raccontare per ogni occhiale una storia. Come è nato, perché è nato, da chi è nato e da quali mani è nato. Noi qui trattiamo solo Made in Italy. È una cosa che ci piace sottolinearlo sempre perché è importante lasciare e avere qualitativamente italiano. Per noi è fondamentale.